Il sindaco della città di Guansù Il sindaco della città di Guansù che ci ha omaggiato di questo gesto di amicizia che per la città di Genova è un po' di respiro perché dà la possibilità di poter affrontare con un minimo di presidio, con un minimo di difesa quella che è la nostra battaglia contro la diffusione del coronavirus. Quindi ringrazio veramente di cuore i nostri amici cinesi per l'offerta che ci hanno fatto e che sin da subito si sono dimostrati vicini a noi in questa battaglia.